ciao ragazzi bentornati sul canale da oggi saranno a disposizione su ordinazione cappello felpa e polo con lo stemma cad potete vedere questi sono cuciti per rappresentanza verrà dato il cappellino cucito e le magliette e la polo verranno stampate se siete interessati contattatemi in privato e vi dirò i prezzi e i tempi di consegna ciao a tutti iscriviti al canale